Acquagno, l'acqua è fresca! I compagni di quella grande rivoluzionaria avventura musicale e culturale che fu Napoli centrale, la band napoletana che alla fine degli anni 70 stravolse i canoni musicali italiani. L'appuntamento a Sant'Arsenio è un vero richiamo per la cittadina, si attendono centinaia di persone appassionati per assistere all'esibizione di Sienese che con il ritmo imposto al suo sax ha fatto impazzire le generazioni di giovani italiani. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 in piazza Domenico Pica, l'ingresso è gratuito.